Ciao ragazzi e bentornati, continuiamo a parlare di Elsa Morante, quindi questo vuol dire che il video precedente ha a che fare con la vita di Elsa Morante, quindi adesso parliamo delle opere. Allora, prima di tutto parliamo della poetica. Il pensiero di Elsa Morante si basa diciamo su alcuni principi che, come ho già detto nel video precedente, nascono dalle sue riflessioni più profonde. Essendo una donna, dalle grandi riflessioni, a volte che l'hanno portata anche a sprofondare i pensieri brutti, negativi, diciamo che lei nei suoi scritti vuole riportare, forse, tra virgolette, potremmo dire, quello che la vita le ha insegnato. È un po' come quando noi, nel corso dei nostri anni, portiamo con noi quello che serve e buttiamo via quello che non ci serve. Allora, in questo caso potremmo dire che la poetica di Elsa Morante si basa su alcuni principi importanti. Prima di tutto l'innocenza degli umili, cioè lei non perde mai di vista quanto è importante la nostra parte innocente, cioè quella che la società, la vita, il dolore, le delusioni non ha corrotto, non ha cambiato e privilegia molto. Quindi ritornano spesso nei suoi opere i bambini, immagini di persone molto pulite e quindi diciamo valorizza molto quella che è il concetto di innocenza appunto degli umili. Il secondo punto c'è un rifiuto per la violenza, ovviamente stiamo parlando di una donna che sente molto, una donna empatica, che sente molto il dolore degli altri, quindi ha un totale rifiuto per il concetto di violenza, di sopraffazione e di violenza, poi è una donna molto forte. Inoltre, diciamo, io direi l'atavico è l'immortale scontro tra gli infelici, le persone non felici, che però sono tante, e i felici, quelli che apprezzano la vita e che riescono a godere appieno, che però sono un po' meno, secondo lei. Quindi in questo scontro ritorna spesso nelle sue opere lo scontro tra le persone infelici e i felici. Inoltre, ritorna anche molto spesso la profonda e sensibile interiorità dell'autrice, quindi quello che lei scrive non è altro che, diciamo, la voce di quello che lei ha dentro. Quindi nei suoi scritti ritorna spesso un ritratto di profonda sensibilità e di come lei percepisce le emozioni, non sono personali, ma anche esterne. Quindi riporta le emozioni come le filtra lei e come le vive, ma soprattutto di quello che sono negli occhi degli altri, quindi riporta le emozioni che coglie negli occhi degli altri, ma anche di se stessa. Inoltre, ritorna spesso una dimensione fiabesca quando racconta le cose, infatti lei nasce proprio come scrittrice di fiabe, di racconti, e ritorna spesso questa visione un po' di fiaba, quasi come una visione ottimistica della vita, il voler credere ancora alle favole. Ed inoltre, le sue opere sono spesso una denuncia di una società che è fatta prevalentemente da uomini schiavi, anche se questi credono di essere liberi. Questo perché? Perché essendo una donna molto forte, una donna che è stata anche impegnata in politica, è una donna che vive la rivoluzione come qualcosa di quotidiano. Cioè lei non accetta la staticità delle persone che accettano le leggi, i fatti, gli eventi, con una staticità, cioè restando fermi. Ecco, lei dice questa società fatta di schiavi, di persone che seguono la massa, però si credono liberi, ma in realtà non sono persone libere. Allora detto questo vi vado a riportare quali sono le opere più importanti. Nel 1948 Menzogna e sortileggio, nel 1957 L'isola di Arturo, 1958 Alibi, nel 1963 Lo sciallo andaluso, 1959 La straordinaria avventura di Caterina, nel 1974 La storia e nel 1982 Raqueli. Allora ragazzi, questa mia velocità, quando vi ho letto, nasce dal fatto che al di sotto di questo video troverete questa mappa, questa mappa sulla quale c'è scritto appunto l'accenno alla poetica ed inoltre l'elenco delle opere più importanti. In questo caso il margine è molto più ampio perché ovviamente non sapendo su quale opera potermi soffermare di più, perché quasi sicuramente studierete l'isola di Arturo, perché è quella tra quelle più studiate, però non potendo certo fare il riassunto di tutti, se no diventava noiosissimo questo video, allora vi ho lasciato un lungo margine. Questo vuol dire che nel momento in cui ci sono altre informazioni che dovete aggiungere a questa mappa, potete farlo. Queste mappe nascono per i ragazzi con disturbi di apprendimento, quindi hanno una grafia molto chiara, ma ciò non toglie che oltre alla mappa troverete anche un audio che vi aiuta nella prima lettura, anche nella seconda, nella terza, insomma, che vi aiuterà nella lettura. E inoltre potete utilizzarla come strumento compensativo durante le interrogazioni, quindi quando ascoltate questo video scaricate questa mappa, studiate con l'ausilio di questa mappa, tenetela con voi e portatevela in classe. No, assolutamente non possono dirvi che non potete osservarla, perché diciamo per i ragazzi con disturbi di apprendimento, quindi dotato di un PDP, questa mappa risponde perfettamente alle vostre esigenze. Vi ricordo inoltre di riguardare il video precedente che è la vita di Elsa Morante e poi completarlo con questo. Scaricate le mappe, scrivetevi in privato se ci sono argomenti in cui vi serve una mano, sarò felicissima di aiutarvi, studiate e vi mando un bacio forte e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ragazzi e buono studio!